La situazione in casa a Roma ci sarebbe il ritorno di Salah in Premier Sponda Liverpool. Prima o poi capita a tutti. La fine di un rapporto, un lutto, un incidente. In ogni caso eravate in un modo e ora siete qualcos'altro. Ognuno ha i suoi conflitti, le sue difficoltà, i suoi demoni. Salah 3! Salah 3! Salah 3! Salah 3! Salah 3! Salah 5! Grazie a tutti.